Gli ultimi accorati appelli prima del silenzio elettorale, i sei candidati a sindaco di Termoli hanno scelto posti diversi tra loro per parlare alla gente nell'ultimo appuntamento prima del voto. In ordine cronologico, il primo comizio è stato quello di Andrea Montesanto, che in piazza Insorti d'Ungheria, insieme ai candidati della propria lista, ha ripercorso i tratti salienti di un viaggio intenso con un programma incentrato su determinati aspetti per sviluppare a 360 gradi il territorio, dal sociale al decoro urbano, dalla vicinanza concreta ai cittadini, alle imprese e all'ambiente. Sul lungomare, invece, il comizio finale di Daniela De Caro, che ha parlato, sostenuta dalla sua lista, di necessità di concretezza, di dialogo con i cittadini, tra i temi caldi, il trasporto pubblico locale, oltre che l'aspetto urbanistico e lo sguardo costante ai giovani e al loro futuro. Marcella Stumpo ha scelto Piazza Monumento per l'ultimo appello, dall'urbanistica al lavoro, la gestione del territorio e la condivisione e trasparenza delle scelte, oltre che l'esigenza di integrazione e attenzione più bisognosi. A suo fianco, i candidati della propria squadra, Gio Mileti e le sue tre liste si sono invece ritrovate a largo tornola, nel cuore del borgo di Termoli, diversi temi sviscerati, tra questi l'esigenza di tutela ambientale, di cultura e turismo, sicurezza dei cittadini, investimenti per la crescita del territorio, lavoro e occupazione, soprattutto per le nuove leve. Manuela Vigilante, con i candidati delle due liste a suo sostegno, ha chiuso la campagna elettorale ai piedi del Castello Svevo, nel bel vedere dei fotografi. Prossimità alla gente, accoglienza e inclusività, decoro e pulizia della città, turismo e nuova luce e considerazione alle aree periferiche. Questi alcuni dei punti salienti del suo programma. Innovazione, comunità, efficienza e sostenibilità, i quattro punti chiave ribaditi da Nico Balice nel suo comizio finale in Piazza Duomo, affiancato dai candidati delle sei liste e da diversi big dei partiti della coalizione, nel segno della continuità ribadendo i tanti progetti realizzati e quelli in corso. Ora spazio ai cittadini, alla loro scelta.